Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie e se queste stories anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all'utilizzo della mascherina e io mi sto sforzando di trovare un modo di essere il più convincente possibile, probabilmente non esiste modo. Quello che posso dire è che ragazzi ci troviamo in una situazione molto 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 delicata e che l'Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown e che in qualche modo il destino e il futuro dell'Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi e con un semplice gesto potremmo in qualche modo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Quindi mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina. Ciao ragazzi, mi vorrei collegare anch'io alle stories che ha fatto ieri Fede perché penso che chiunque adesso abbia un grosso seguito debba anche avere la responsabilità di sensibilizzare. In questo momento mi sento di sensibilizzare verso l'uso della mascherina perché è un piccolo gesto che però fa veramente la differenza, soprattutto se utilizzata da tutti quanti. Adesso in Italia siamo veramente in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può veramente far sì che non si verifichi lo scenario peggiore che tutti di noi in primis abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che è quello di un lockdown. Per favore, veramente in questo momento sta alla responsabilità di ognuno di noi, quindi mettete la mascherina.